E' un matematico fiorentino, ma Dio legume che un'avia riuscita a combinare con questa somma, proviamo Dio spento la proia un'altra volta. Dunque, padron di casa 52,75, trattoria di grugno 42,50, barbitonsore 2,75, lavandaia Dio cane di colore 4,17, biancheria e stiraria 6,29, bolletta, porco, boia del gas, 7,87, una camicia 3,25, risolatura e tacche 3 lire, spese diremmo così lì, non sticolori 7,50. Totale, 5,5,10,7,16,17,9,26,33,38, con l'importo governo schifo di 2,7,3,10,5,15,7,22,23,25, 35,5,40, riportando 4,4,48,10,20,27,30,33,40, tornando a riportare 4,4,5,9,4,13. Totale, 130,08, dipendio, facciamo confusione, 130,08 gli effetti, dipendio totale 150 lire, rimanenza attiva 19,92, torniamo a contare in tasca, Dio boia e son 14,92, ho le 5 lire che mancano. Aspetta, ricominciamo, 5,5 salvo la faccia della madonna fanno 10, e 7 bambino al sugo fanno 17, 17,9,26, 7,33, e 5,38, con l'importo Dio giornalaio di 3, 7 aggiungendo 3 col permesso del Dio sulgo fanno 10, e 5 sangue di 12, 5 li fanno 15, e 7,22, 1,23, 25,10, pari a come chi dicesse 35, e 5,40, riportando Giuda Schifo la maiala cifra di 4, 4,48, e 2,10, e altri 10, Dio negoziante in funghi avvelenati e fanno 20, 20, e 7 giuliti al pomodoro fanno 27, e 3,30, e 3 col permesso di Giuda Scariota un fanno 33, e 7 un fanno 40, col riporto spaghetti al latte miele di 4, 4, e 5 sputa 9, 9, 4, 4, 15, 13, totale 130 col decimale l'ostia fritta di 0,8, e allora va, e allora le 5 lire, ma Dio buono, porco il naso a sera dei 12, a posto di 2, e la cicetta, cicetta, la sera di Berlingaccio, madonna con la donna a scinta, 138, 14,92, rimanenza delle spese multicolori, fanno 145, e i 5 franchi di carnagione umana fanno conto tondo alla faccia Dio spedizionare della Beata Vergine, no, e lo sapevo io, ero un matematico sopraffino, Dio boia, ma...